Dopo essersi tolto gli 8 punti dalla testa, Luca Cremona ne regala 3 all'Ancona. Suo, infatti, il colpo di testa decisivo con cui i biancorossi conquistano il successo, nel bunker del Nicolai di Centobuchi, off-limits, per i tifosi dorici. Suo ha la testata che spezza un noioso match, in cui, nel primo tempo, non succede davvero nulla. Il Centobuchi è bravo e ordinato a sistemarsi in 10 uomini dietro la linea della palla, o meglio, davanti agli ultimi 25 metri di campo. L'Ancona è invece troppo lenta e statica per muovere gli avversari e sfondare. L'unico che ci prova è Mattias Santoni. Al quinto, l'attaccante di Polverigi si infila in area ospite e calcia di sinistro sul primo palo. Parapalanca devi andare in angolo. Che ci crediate o no, il primo tempo è tutto qui. Il resto è solo possesso pallanconetano e resistenza biancoceleste. Nella ripresa il ritmo non si alza e il copione rimane identico. Pesarese e i compagni spostano la palla, ma senza riuscire a creare occasioni da gol. Al decimo, però, Belelli di prima pesca Cremona sul secondo palo. Colpo di testa incrociare e palanca. È battuto. Proteste il Centobuchi per fuorigioco. Due minuti e ancora Mattias Santoni calcia in porta sfiorando il palo di palanca. Al quindicesimo, Frenconi scatta sul filo del fuorigioco, ma come entra in area dell'Ancona sbaglia l'ultimo controllo. Recchi in uscita bassa lo chiude. Al ventunesimo, Garofalo in spaccata arriva un pelo in ritardo su cross di Bertozzini. Fotocopia, a parti invertite, un giro di lancette più tardi. Al trentatreesimo, sempre Mattias Santoni a provarci, ma palanca para in sicurezza. Trascorrono 120 secondi e l'estremo difensore di casa si oppone in due tempi a una conclusione dal limite di Cremona. L'Ancona controlla agevolmente e difende il vantaggio. L'ultima annotazione arriva al penultimo minuto di recupero, quando Lunerti si fa espellere per doppio cartellino giallo. Il secondo, per un inutile controllo col braccio. Finisce dunque con i biancorossi vittoriosi, ma è stata una vera e propria sofferenza. Dopo due pareggi consecutivi, però, l'importante era tornare a vincere. E almeno per questa giornata i tre punti bastano e avanzano.